Caro professor Prodi, partiamo subito da un minimo di chiarezza terminologica. Quando parliamo di global warming, mischiamo insieme il termine meteorologia e clima. Qual è la differenza tra gli andamenti meteorologici e gli andamenti climatici? Dunque, la meteorologia è intuitiva, è abbastanza semplice, apriamo la finestra, vediamo se il cielo è coperto, il cielo è sereno, se piove misuriamo la temperatura, i tre parametri fondamentali, temperatura, pressione e umidità, evolvono nel tempo. Quando vogliamo ragionare di climatologia, si intende, una volta si chiamava anche climatologia statistica, si intende prendere questi dati meteorologici, e elaborarli su delle basi temporali che possono essere più diverse, stagionali, quinquennali, ventennali, i mille anni, i milioni di anni. Quindi, quando parliamo di climatologia, dobbiamo definire l'ambito temporale nel quale ci muoviamo, normalmente prendiamo i dati meteorologici e li confrontiamo con 30 anni di dati precedenti, era in vigore tra 1960 e 1990, adesso si slitta di 10 anni più vicino, comunque parliamo di una trattazione statistica e dati meteorologici su delle basi, su dei intervalli temporali molto lunghi. Ecco, è proprio questo che ti volevo chiedere come seconda cosa, cioè quando parliamo di clima abbiamo bisogno di definire un intervallo temporale chiaro che non è brevissimo. Tu adesso accennavi a 30 anni, qual è questo quindi l'intervallo di tempo che noi dobbiamo considerare per poter avvertire dei cambiamenti climatici? Sì, è quello che gli studiosi di climatologia prendono come periodo di riferimento, naturalmente parliamo della climatologia come viene attualmente intesa, uno può parlare anche di clima di valle, di clima di un'isola, clima di costa, ci sono quei dettagli, però insomma normalmente quando parliamo di climatologia parliamo di clima globale e su una trentina di anni di dati. Poi naturalmente c'è la paleoclimatologia, allora si va nelle milioni di anni, però dipende anche… Paleo adesso lo lasciamo per. Allora nel trentennio che noi possiamo considerare, è giusto considerare quindi che siamo in presenza di un cambiamento climatico in questi 30 anni e quindi in presenza di un aumento della temperatura? Allora bisogna precisare, fare una precisazione diciamo di fondo che parliamo di misure di parametri fisici su tutto il globo dai primi dell'Ottocento, cioè una cosa sono gli indizi, cosiddetti proxy data e una cosa sono le misure fisiche. Allora il termometro di Galileo, il barometro di Torricelli, gli idrometri con diversi autori sono stati diciamo inaugurati, scoperti, prodotti nella prima metà del Seicento, però in realtà diciamo con qualche collocazione nelle diverse accademie, ma diciamo per poter parlare di una rilevazione mondiale dei dati meteorologici, dobbiamo arrivare ai primi dell'Ottocento, nel Settecento ci sono le accademie, poi ci sono cominciati a espandere diciamo attraverso gli ordini religiosi, gli esploratori, gli esploratori, gli colonizzatori, insomma per poter dire globale, cioè serie di dati in tutto il mondo, si può partire solo dai primi dell'Ottocento e queste misurazioni fisiche ecco ci dicono che con tutte le correzioni del caso di cui possiamo parlare, insomma questo dato accettato da tutti, di un aumento di sette decimi di grado per secolo, però abbiamo a disposizione due secoli, la prima dell'Ottocento e il Novecento e andando a ritroso nel tempo invece bisogna lavorare. Io non ti seguo più, tu prima ci hai detto che nel clima bisogna pensare ai 30 anni, nella temperatura hai parlato di un secolo, di un altro secolo, perché? Sì, cioè prendendo queste, chiamiamo serie storiche dei dati, allora noi vediamo, per avere una serie storica bisogna depurare da tutte le situazioni, per esempio una stazione rurale viene invasa dalla periferia e quindi c'è l'isola di calore della città, non si usano nel tempo, nell'Ottocento, non c'erano le stazioni, le capannine meteorologiche, quindi diciamo c'erano strumenti nelle nicchie dei muri, diciamo c'è tutto un lavoro da fare di specialisti, io sono un fisico delle nubi, ho colleghi molto bravi in questo, in tutto il mondo che fanno, isolano queste serie storiche e su queste ragionano, per stabilire con tutti i metodi medievariabili eccetera eccetera, il risultato è quello che ti ho detto, cioè appunto un riscaldamento, parliamo della temperatura, dell'aria a due metri dal suolo, come si misurano le capannine meteorologiche in tutte le parti del mondo, mediate, ecco di questi praticamente sette decimi di grado insomma, ecco, allora qui comincia il dibattito, su questo non c'è nessuna controversia, ecco, però appunto cominciano le grandi divergenze, cioè queste l'IPCC e tutti diciamo i catastrofisti che incolpano l'uomo, dicono il 97% è colpa dell'uomo, che proprio queste belle coincidenze, insomma, dall'inizio delle serie storiche all'inizio dell'uomo industriale che possiamo far risalire alla macchina a vapore di Watts dal 1795, coincidono un po' queste date, no? abbiamo la macchina a vapore di Watts, abbiamo il fatto che l'uomo non è più un animale di mezza taglia come gli altri, ecco, però il consumo, insomma, produce energia col carbone, poi col petrolio, poi col gas naturale, poi col nucleare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, siamo di fronte a una grande divergenza che ha portato a questa che io chiamo una macroscopica fake news, è tutta l'IPCC, cioè che il 97% è causa dell'uomo, questo riscaldamento che è accettato da tutti, e invece altri, io fra questi, dicono, guardate, diciamo, se prendiamo i proxy data, ma che sappiamo benissimo, cioè le vicende anche di quest'ultimo millennio, il periodo caldo romano, il periodo caldo mediovale, la piccola glaciazione, questo potrebbe essere un riscaldamento che continua dal minimo della piccola glaciazione, il 1650, ecco, il 1700, può essere un aumento di temperatura legato, e qui veniamo agli altri discorsi, che cos'è dei termini del clima? Gli altri aspetti naturali, cioè la nostra lampada che è il sole, il fatto che questa palla che è la Terra non fa un'orbita che sia sempre uguale intorno al sole, perché gli altri pianeti devono dire la loro dal punto di vista gravitazionale, che questo asse di rotazione non solo è inclinato sul piano dell'eclittica, ma ha un periodo di precessione, ha una specie di moto come fanno le trottole, diciamo, intorno a questi 26 gradi sul piano dell'eclittica, che ha un periodo di 26 mila anni e quindi ci sono in sintesi delle ragioni astronomiche molto evidenti, trattate dalla teoria di Milankovic con un periodo di 450 mila anni circa, con dei sottoperiti di 125 mila anni, ragioni astronomiche, ragioni astrofisiche, cioè la stella. Il nostro sole non è una lampada costante, sappiamo che ci sono queste macchie solari che hanno un periodo di 11 anni, è solo recentemente nata la possibilità di misurare questa costante solare che non è affatto costante con misure da satellite, prima che ci fossero i satelliti si faceva con i metodi di fotometria solare molti spettrali, cioè si va in alta montagna dove c'è la masseria più rarefatta, si punta il sole a diversi angoli, quindi chiamiamo in gergo diverse masse d'aria, estrapoliamo masse d'aria zero e diciamo che quella è la costante solare. Adesso andiamo via... Ti interrompo un attimo, quindi finora tu dici il mondo della comunità scientifica si divide in due parti, una prima parte dice che il contributo dell'uomo è maggioritario, addirittura il 97% come causa, e un'altra parte della comunità scientifica dice che non è così e tu appartieni a questa seconda. A questa famiglia a cui tu rifai, tu ci stai dicendo che quindi l'innalzamento, nella misura che ci dicevi prima, 0,7 gradi per secolo è dovuto a cause astrofisiche, a cause astronomiche... Astronomiche e anche antropiche, io non ne... Ma dopo vediamo qual è la percentuale che tu e i tuoi colleghi attribuiti alle cause antropiche, però diciamo la famiglia astrofisiche, astronomiche, antropiche, lasciamo le per ultime poi viste, hanno delle cause naturali del nostro pianeta. Si deve aggiungere fra le naturali, oltre astronomiche e astrofisiche, l'involucro gassoso del nostro pianeta, che anche quello influisce su questo viaggio di andata e ritorno dei fotoni, cioè arrivano fotoni solari e se ne vanno fuori fotoni terrestri, ma in mezzo c'è questo involucro che ha le sue caratteristiche naturali, che vengono dai vulcani, cioè le eruzioni vulcani che ci sono sempre state, vengono dalla presenza di particelli di aerosol che ci sono sempre state, i fuochi, gli incendi delle foreste, la dispersione di solidi, di liquidi, quindi le tempeste di sabbia del Sahara, le particelli di origine marina, ogni cavallone al mare produce bollicine che salgano, ogni bollicina produce le sue goccioline, ogni goccioline va per producere le sue particelle di sale marino e l'uomo fa lo stesso in questo involucro che fa la natura, cioè ha dei motori a combustione interna, ha delle caldaie di riscaldamento, c'è i pneumatici che fanno delle particelle come fa la sabbia del Sahara quando scaglia i grani di quarzo, scaglia le particelle di argilla, i meccanismi dell'uomo sono inquadrabili in quelli stessi della natura, cioè combustione, dispersione di gas e particelle, conversione tra i gas, da gas a particelle. Questi sono i meccanismi, l'uomo fa lo stesso con tutta una serie di conseguenze, quindi diciamo dentro all'involucro atmosfera abbiamo altri effetti naturali e molti effetti antropici. Allora, lascio mi concludere dicendo, allora la conoscenza del sistema clima non è tale da consentire la previsione. Allora, quelli che fanno questi modelli fanno degli scenari perché nei loro modelli, confrontano modelli con modelli, trattano i fenomeni che possono trattare, sapendo che ci sono dei buchi enormi di competenza, della grossolanità nel trattare questi fenomeni e producono questi scenari. Questo è, diciamo, l'entroterra di questo report delle IPCC di cui si parla proprio quando c'è il Working Group 1 che deve ideare il LA alle COP, alle conferenze dei partners, quindi ci sono queste periodiche ondate di interesse in cui, diciamo, un ambito che non è quello della scienza, ripeto, è un ambito tra le Nazioni Unite e alcuni scienziati nominati dai governi devono rispondere a questa domanda periodicamente dalla fine degli anni 70. Allora, prima parlavo di global warming, cioè c'è un riscaldamento, adesso parlo di climate change. La domanda è questa, allora questi cambiamenti sono opere dell'uomo e loro devono rispondere a una domanda dei governi. Questo è il quadro, rispondono in questo modo con dei modelli che producono degli scenari, io dico la scienza va da un'altra parte, ha degli altri metodi, degli altri sistemi, i rappresentanti che vanno all'IPCC non sono nominati dal Ministero degli Ambienti mentre la ricerca sul clima va con le proprie conferenze, con le proprie associazioni e richiederà i propri tempi prima di arrivare a quello che è già stato raggiunto dalla meteorologia, cioè quella conoscenza adeguata a produrre previsione, cioè se sai spiegare sai anche prevedere. Nessuno si azzarda a fare un weekend senza dare un'occhiata al tempo perché il progresso fatto con le cinque equazioni della meteorologia risolte dai calcolatori sono progressi enormi. Il sistema clima è enormemente più complesso, non siamo in questa condizione quindi devo essere critico sia verso i catastrofisti e anche verso i negazionisti perché la scienza non si fa al barre, non si fa a quelle fazioni. Questo è molto interessante. Volevo completare un po' questo affresco che hai fatto tu dando un po' dei pesi, cioè nell'ottica che tu hai detto, combinando quelle tre componenti che ci hai spiegato, la quarta che quindi è la componente androbica, cioè il contributo dell'uomo, nella tua visione quanto pesa rispetto all'innalzamento di temperatura? Ecco, questo è proprio, ti ho già implicitamente risposto perché non si può dire quanto pesa perché entro nel dettaglio ma è necessario entrare nel dettaglio, perché siccome quello che si legge è la correlazione fra l'innalzamento di temperatura e l'emissione della CO2, nella CO2 il contributo antropico viene misurato in funzione del 5%, questo 5% viene scorporato nelle varie percentuali di cui la componente per esempio dei trasporti è il 14% eccetera eccetera eccetera, ecco tutto questo a tuo parere non è un'analisi, cioè non si fonda questo peso percentuale che molto velocemente ho riassunto, non so neanche desse bene, su dei dati scientifici, è una delle tante simulazioni. Sì, esattamente, hai detto molto bene, sono degli scenari e purtroppo diciamo senza entrare nel merito della condizione scientifica che ti ho detto finisce che questi vengono presi per certezza e guidano le scelte dell'umanità in materie che sono impressionanti. però viene spontanea una domanda ed è per quale motivo allora, cioè come quella parte di scienziati diciamo chiamiamoli catastrofisti per semplificare un po' il termine, come mai hanno occupato così velocemente l'attenzione mondiale dei media? Perché il mainstream è quello della responsabilità dell'uomo, il tantam è sulle, allora sul carbon free, eccetera, eccetera, cioè da quello che tu dici, tu sostanzialmente ci hai dimostrato che siamo di fronte a una complessità molto alta, mentre sulla meteorologia riusciamo a prevedere il tempo, sul clima non possiamo prevedere le cose. Esatto. Come hanno fatto questi personaggi a occupare il mainstream di questo settore? è una bella domanda, però non sono io la persona che può dare una risposta, ci vorrebbe un psicologo dell'umanità, della modalità dei media, insomma, cioè non è la prima volta che si creano di queste fake news, si supposano anche, cioè c'è un aspetto sociologico che ho visto nella mia vita, cioè io dal 65 che mi occupo, ho frequentato tutte le conferenze di fisica delle nubi per esempio, e poi ci sono le conferenze dell'organizzazione meteorologica mondiale che sono un po' diverse perché devono organizzare tutti i servizi meteorologici del mondo, è una funzione importantissima, quasi anche di politica estera, insomma, tante volte sono stato anch'io a Ginevra, coinvolto nelle commissioni, ma è un quadro diverso, un quadro diverso perché ci sono dei problemi che sono di natura semi-politica, per esempio la weather modification, cioè sono dagli anni 50, ecco, c'è il problema, se non riusciamo a modificare il tempo, quali sono i metodi per, che progressi stiamo facendo in questo, insomma, cioè, è una, chiamiamo la scienza applicata, ecco, ma non è il mainstream della conoscenza, c'è il problema di sapere con tutte le conseguenze del caso perché l'acqua per esempio sarà la causa di conflitti sempre maggiori nei prossimi decenni e quindi il ciclo dell'acqua deve essere controllato, studiato, avremo delle contese per la pioggia, per l'uso dell'acqua, però siamo in un altro ambito, cioè l'ambito, l'OMM deve fare questa forma di organizzazione, però non è la strada della conoscenza del sistema clima che non va a maggioranza, non va a conferenze precostituite con una conclusione precostituita come sono state finora a Chiotto, Copenaghen, Parigi, c'è tutta questa serie, insomma. Franco, scusami, provo a farti la medesima domanda, poi ci avviciniamo alla conclusione perché ho un'ultima questione da chiederti e poi ti sollevo da… No, ma passiamo, non abbiamo limiti, fare anche delle altre volte, continuare. Senti, ma allora, diciamo, verificato che nei media è vero che c'è una pressione mediatica a favore del, diciamo, del catastrofismo, e della responsabilità umana, e tu dici, bisognerebbe chiedere a un sociologo, a un opinionista mondiale, ma all'interno della comunità scientifica, diciamo, avete pari libertà di accesso, pari discussione, o anche all'interno del vostro mondo, diciamo, la famiglia alla quale tu non appartieni, effettivamente ha la voce più… ha più accesso, diciamo, alla discussione? Beh, certo, lo vediamo concretamente, ecco, non so se hai seguito che da 3-4 anni c'è una petizione, fino ad adesso siamo 61 scienziati italiani, fisici dell'atmosfera, geologi, paleontologi, eccetera, che mettono, che fanno i discorsi che ho fatto io, su un punto di vista mondiale, almeno 500 sono in crescita, che fanno questo tipo di discorso, che viene regolarmente ignorato, ecco, banalmente, la richiesta deve essere ricevuta dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, cioè i media, insomma, c'è un'ostilità generale, perché è già accettato questo mantra che è il 97% è colpa dell'uomo, se non teniamo sotto controllo, dentro i due gradi e mezzo, come se fosse una cosa veramente possibile, insomma, come se fossimo già in grado, diciamo, con i nostri sacrifici, le nostre limitazioni sull'uso del fossile a governare veramente la cosa, e allora capisci che non c'è spazio per nessuna altra opinione. E ripeto, lo stare attenti perché anche il rischio che noi corriamo di essere targettati come negazionisti, io almeno rifiuto queste classificazioni e penso che si dovrebbe veramente fare degli sforzi a livello planetario, ma non sulla limitazione di un riscaldamento di cui noi sappiamo la responsabilità, ma per un rispetto dell'ambiente planetario. questo su cui non ci si concentra abbastanza, sul quale si dovrebbe convergere con un sforzo mondiale e coordinato, che deve sempre comportare una gestione del fossile mondiale, non nel senso che ognuno può fare quello che vuole, siccome finirà l'uso del fossile, la sua gestione, quello del fossile in generale, quindi carbone, petrolio, allora va gestito in un modo da arrivare a una transizione che protegga l'ambiente, ma non, cioè, se tu hai due malattie, non è che puoi trovare una medicina per tutte e due, se fai dei provvedimenti per la cosiddetta lotta al riscaldamento, non è detto che siano quelli che vanno per la protezione dell'ambiente planetario, che è deteriorato, questo sì, sotto gli occhi di tutti, ed è misurabile, cioè, tu puoi misurare l'inquinamento dell'Asian Brown Cloud, della nube scura dell'Asia, perché lì usano ancora molto il carbone per cucinare, eccetera, c'è tutta una, abbiamo le plastiche negli oceani, i metalli pesanti, nei pesci, abbiamo tutta una serie di cose che dovrebbe allarmare prima di un riscaldamento globale che non sappiamo etichettare con una percentuale attribibile all'uomo, insomma, questo è un po'. Ti avevo promesso l'ultima domanda e in effetti è l'ultima, ma... No, ma... No, no, ma... Anche perché poi avevamo promesso una mezz'oretta e siamo proprio agli sgoccioli della mezz'ora. Mi ricollego a questa cosa che hai detto tu all'ultimo, cioè questa tentazione che abbiamo sempre di fronte a ogni evento climatico nefasto, di trovare sempre un colpevole, oppure anche meteorologico, arriva la bomba d'acqua di chi è la colpa, arriva un'alluvione di chi è la colpa. Ecco, questa tentazione di trovare sempre un capro espiatorio non accettando che ci sono delle cose che sono ignote, secondo te, da dove deriva? Perché abbiamo sempre... Vabbè, qua entriamo in una cosa... veramente mi inviti a nozze, a delle nozze brutte, nel senso che questa bomba d'acqua è un termine che io ho sempre condannato, la mia specialità è proprio da fisico delle nubi e nello studio radar meteorologico, satellitare e soprattutto di nowcasting, quindi ti spiegherò poi che delle sistemi di precipitazione che generano le alluvioni e quindi tutta questa apparato verbale di bomba d'acqua sono le persone che dovrebbero fare una difesa dai rischi meteorologici all'avanguardia e non la fanno e oggi per questo sono... siamo già fuori dal clima, siamo proprio sulla difesa dai rischi meteorologici e ti posso accertare proprio una persecuzione diretta su video perché io ho fatto, ho diretto il maggior istituto di fisica dell'autostrada del paese, ho fatto le mie battaglie perdendole perché di volta in volta hai dei protagonisti dai servizi meteorologici regionali, un tempo c'era solo il servizio meteorologico e aeronautico, adesso ce ne sono 19, più la protezione civile che si è messa a fare la direttrice d'orchestra, dei radar italiani, tutte le cose, cioè si fa sempre per addizioni di una incapacità perché la parte più avanzata comporta che tu devi sapere la fisica bene, adesso ci sono dei radar multiparametrici e tu puoi non solo sapere dentro la nube se sta cominciando a precipitare ma devi riconoscere dalla polarizzazione se si tratta di cristallini piani, di chicchi di grandine, di gocce oblate, delle diverse forme, e poi la sovrapposizione tra la radiometeorologia avanzata con i dati da satellite, con dei dati convenzionali ma trattati istantaneamente, cioè entro ogni 20 minuti tu devi fare che non è più una previsione, è una constatazione in atto del temporale di come si sta evolvendo, si sta aumentando, si sta fondendosi con altre cele temporalesche, si sta dissipando, cioè c'è tutta una cosa che non viene fatta, insomma, non viene fatta e ogni volta questa bomba d'acqua e l'eccezionalità è una menzogna perché non sono fatta eccezionalità, è che ogni volta ci si trova impreparati dal punto di vista della catena della gestione del rischio. Tu devi partire dalla previsione 10-12 giorni, poi 3 giorni, poi devi scattare dalla previsione numerica alla sorveglianza radar meteorologica satellitare, devi combinare i dati con i dati idrologici del bacino perché l'alluvione può essere come nel 50 del Polo, è solo l'onda di piena, ma più il bacino è ristretto, più il temporale ha la sua importanza, fino ad arrivare a quei bacini strettissimi con quelli che fanno torrentismo e muoiono annegati perché il temporale dà un'onda subito e tu non sai, c'è tutta una serie di, qua non siamo nelle cose indefinite, siamo nella scienza più avanzata della meteorologia del futuro, questa è la meteorologia di ricerca avanzata e chi non lo fa è inadempiente, insomma un paese decente deve avere questo al meglio, insomma, e qua invece qua potremo, chiudo con due rada meteorologici in buio di un mio progetto che stanno facendo la ruggine e mi hanno buttato fuori, tu sei vecchio, il progetto era solo di 5 anni e ci sono degli incapaci che lasciano arrugginire questi gioielli, queste sono realtà, è vita vissuta, non è che stiamo parlando delle opinioni, cioè quando parliamo di clima ci sono le incertezze perché il calore che viene dall'interno della terra, il degassamento della crosta, i vulcani, il ruolo delle nubi e tutte queste sono incerte, ma nella meteorologia delle precipitazioni abbiamo fatto dei passi enormi e quindi essere inadempienti è colpevole, insomma, Franco, grazie di questa chiacchierata e poi grazie soprattutto a parte della tua competenza che già conoscevamo e che apprezziamo sempre di più, però grazie per la franchezza, per la libertà con cui ci siamo parlati, per cui magari se in un'altra circostanza avrai la disponibilità continueremo questa piacevole conversazione. Senz'altro, senza altro, sono sempre disponibile, io dico sempre perché ho fatto la vita più bella che si possa fare a spese del cittadino, la ricerca, il mestiere più bello, ho dei doveri di dire le cose, che si può fare a spese del cittadino, 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 a spese del cittadino,